Oggi siamo qui anche come potere al popolo, al fianco dei lavoratori e della comunità indiana perché quello che è successo è inaccettabile, non è un caso isolato ma per un vero e proprio omicidio sul lavoro che si inserisce in un contesto in cui ci sono oltre più di mille morti sul lavoro all'anno. Sappiamo che questo problema è un problema strutturale che vede la totale assenza di sicurezza per i lavoratori in svariati posti di lavoro. Ci arrivano notizie ogni giorno, oltre a Satnam è morto un altro ragazzo, Pierpaolo, che aveva 18 anni quindi vediamo che quelle che sono le politiche che negli ultimi 30 anni si sono abbattute contro i lavoratori colpiscono dai giovani alle persone che purtroppo lavorano ancora e non possono andare in pensione. Noi siamo qui, continueremo ad esserci perché sappiamo che la vera sicurezza in questo paese non la fanno i decreti sicurezza come quelli contro cui eravamo in piazza ieri ma la sicurezza sul lavoro, un vero e proprio ispettorato, tutela e diritti.